allora direi che possiamo iniziare qui registra quindi cominciamo con qualche avviso e allora prima di tutto penso che sappiate questa è l'ultima lezione in aula del corso ok quindi la prossima settimana non c'è lezione in aula perché abbiamo finito le ore del corso dobbiamo far 60 ore e arriviamo giusti a 60 ore quindi oggi parliamo di autenticazione avete le slide come sempre sul sul git quindi tra poco andiamo a parlare di questa cosa nella solita nostra maniera che è quella di prima fare un pezzettino di teoria e poi andare a vedere come applicarla in pratica e poi voi nel laboratorio andate a fare la stessa cosa applicata al vostro caso specifico il laboratorio non è giovedì perché festa 2 giugno il politecnico è chiuso ma è la settimana successiva quindi avete tempo di pensare un pochettino diciamo a quello che vediamo e giovedì 9 giugno ok ci sarò sia io sia il professor servetti sia il professor science nei tre slot ok quindi se avete bisogno di parlare con uno dei tre potete diciamo in qualche maniera comunque gestire la cosa per quella data sarà già uscito il tema d'esame del primo appello ok quindi giustamente è il primo fin si diciamo tutti lo guarderanno un po con attenzione se ci fossero dei problemi dei dubbi delle cose ovviamente in laboratorio siamo a disposizione per risolvere questi dubbi stessa cosa vale anche per la chat slack ok di solito facciamo in questa maniera come ho già detto l'altra volta diciamo lasciamo che si cominciano a porre un po di domande sulla sulla chat apriremo un canale apposta quindi ci sarà un canale exam 1 qualcosa adesso dipende da cosa chiediamo chiediamo un nome semplice e lì sopra potete mettere le domande relative all'esame ok così non intasiamo il discussion per eventuali problemi di altre cose non so dubbi su su come funziona l'esame piuttosto che su big lab e tutte queste cose più relative al corso ok ok che ne dicevo magari nei primi due o tre giorni lasciamo che vengano fuori le domande così intanto facciamo anche noi una riflessione dico noi nel senso io con i miei due colleghi del corso in inglese perché il tema è uguale per tutti sono scritto in inglese per l'inglese viceversa in italiano quindi magari abbiamo mal specificato qualcosa eccetera intanto riflettiamo un po su questi punti che a noi non sono apparsi subito evidente ma che voi magari diciamo creano più dubbi e poi concordiamo diciamo una strada da seguire comincieremo a rispondere a queste domande ok ok poi vediamo anche in base al numero delle domande insomma se ci sono poche domande tante domande qual è la strada migliore se li raccogliamo in un file come facevamo spesso l'anno scorso però l'anno scorso eravamo completamente in remoto quindi diciamo una situazione leggermente diversa il 12 giugno c'è la consegna del big lab 2 quindi dopo il laboratorio quindi per questo abbiamo ancora tempo questo è indipendente dagli appelli è quindi questo big lab 2 come il big lab 1 vi dà dei punti che rimangono validi fino all'anno prossimo fino a che non iniziamo il corso dell'anno prossimo quindi per praticamente i cinque appelli perché ci sarà anche credo quello di ottobre 2022 no cos'è cosa avete voi sì ottobre sì ottobre più febbraio 2023 gennaio febbraio 2023 a seconda di quando lo metteranno comunque prima che inizi l'anno prossimo ok quindi questo un avviso secondo avviso ecco lo sapete abbiamo da compilare i questionari cpd se non l'avete ancora fatto vi prego di farlo inclusi chi ci segue in registrato quindi se vede la registrazione entro mi sembra la scadenza sia il 12 di giugno si 12 giugno perché finiscono i corsi quel giorno lì si chiude rispondete al cpd piuttosto cliccate non voglio rispondere però rispondete perché le statistiche diciamo di percentuale di risposta vanno un po influire anche su sulle tutte le come dire sui processi qualità dell'ateneo eccetera che poi vanno al ministero e tutto quindi avere una percentuale bassa di compilazione sfavorisce un po tutti voi inclusi ok quindi è il compilare il questionario oramai lo conoscete abbastanza breve clic 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 e sono non so cosa sono una ventina di domande alla fine ma insomma e c'è la parte risposta aperta quindi li vedete voi se avete dei dubbi anzi più che dubbi dei commenti dei suggerimenti da darci è volentieri noi accettiamo li leggiamo sempre con molta attenzione ci riflettiamo su io e i miei colleghi del corso in inglese per l'edizione dell'anno prossimo capisco che non sono direttamente utili a voi almeno tranne che che abbiate qualche suggerimento magari particolare per l'esame che si può effettivamente implementare però diciamo i vostri colleghi vi hanno fatto la cortesia l'anno scorso di farlo per voi qualcosina come dire è anche cambiato nel corso degli anni voi fate questa cortesia ai colleghi dell'anno prossimo quindi grazie per questo sforzo e a questo punto direi che abbiamo finito con gli avvisi se non ci sono dei dubbi o delle domande direi che possiamo concentrarci sulla lezione di oggi che comunque è abbastanza importante perché il meccanismo dell'autenticazione è fondamentale nell'applicazione web perché finora abbiamo fatto applicazioni web estremamente semplici apriamo una pagina clicchiamo un po come creare un'applicazione con un'interfaccia grafica niente di particolare però nel momento in cui siamo in un contesto web cioè l'utente remoto va in qualche maniera riconosciuto l'applicazione in generale è dedicata a una moltitudine di utenti quindi la prima cosa che deve fare per diciamo ricordarsi chi fa cose autenticare l'utente banalmente presentare una schermata con username e password e poi da lì si opera diciamo sui dati di quel certo utente con le proprie autorizzazioni eccetera eccetera insomma quindi oggi vediamo come come fare ok allora prima di tutto dobbiamo distinguere due aspetti una cosa è l'autenticazione una cosa è l'autorizzazione poi nella nostra applicazione essendo talmente semplice le due cose quasi coincideranno però l'autenticazione è il processo in cui io dico chi sono ok user name password mi riconoscono come enrico masala ok quindi cioè connesso sul sulla parte client una certa persona un certo utente ok l'autorizzazione invece a fronte del fatto che ho capito che c'è dall'altra parte che cosa può fare questo qui ok per esempio nel portale a didattica voi potete scaricare il materiale eccetera se mi è autentico io posso anche caricare il materiale quindi un'autorizzazione in più e così via ok quindi i diritti concessi sulla base diciamo di una certa logica dell'applicazione sono le autorizzazioni diciamo che nella vostra applicazione nelle vostre applicazioni fondamentalmente questa differenza sarà spesso minima perché magari abbiamo una classe di utenti che possono fare certe cose come stamattina avremo la classe degli utenti studenti che possono diciamo visualizzare la lista dei propri esami ma non abbiamo niente altro se avessimo che so magari un amministratore potrebbe aggiungere esami quindi la lì scusate non corsi più esami quindi una una lista di diciamo di qualcosa utile a tanti altri utenti chiamiamoli così normali come come fossero gli studenti nel nostro esempio quindi diciamo in generale le autorizzazioni sono collegate al all'utente però dipende molto dalla logica applicativa l'utente che può fare visualizzare l'utente che può modificare l'utente che può diciamo a qualche permesso in più di amministrazione quindi può aggiungere può cambiare delle cose che eccetera ok questi meccanismi sono abbastanza complessi sapete che la questione della sicurezza informatica come dire è assolutamente cruciale oggigiorno c'è addirittura un orientamento della laurea di ingegneria informatica apposta e non solo dei corsi ma persino un orientamento perché è qualcosa che se deve essere realizzato bene complicato ci porta via tanto tempo si possono fare tanti errori magari dovete interagire con terze parti come si scrive qui quindi volete realizzare login logati con facebook google eccetera eccetera bisogna scambiarsi tutta una serie di informazioni token eccetera quindi il meccanismo può diventare veramente complicato coinvolge sia il client sia il server e quindi dal nostro punto di vista è l'ultima lezione del corso non possiamo fare più di tanto ma anche non è il nostro obiettivo noi ci siamo concentrati sulla realizzazione della infrastruttura dell'applicazione cerchiamo di utilizzare soluzioni più possibile standardizzate perché qualcuno diciamo così pure più bravo di noi più esperto di noi se vogliamo metterla diciamo non sulla bravura ma sulle esperienze sicuramente più esperto di noi ha ragionato su qual è la cosa migliore da fare per realizzare queste funzionalità ok e quindi seguiamo le best practice diciamo del previste diciamo nel nostro contesto delle applicazioni web in maniera molto semplice in questo corso quindi di fatto realizziamo un sistema di autenticazione no scusate di di autenticazione quindi un meccanismo in cui mettiamo username e password riconosciamo l'utente e poi eventualmente ma direttamente a livello che so del server per esempio nell'applicazione se ha senso diciamo consentiamo di fare più o meno cosa un amministratore piuttosto che un utente normale se siete in dubbio su cosa fare nel mondo reale chiedete a degli esperti del settore e non inventatevi nulla perché inventando si sbaglia quasi sicuramente in questo campo ok perché c'è sempre la cosa che ci sfugge nel meccanismo che che non abbiamo capito fino in fondo e così via questo vale un po per tutti è inclusi inclusi noi ok qui diciamo la facciamo un po troppo lunga secondo me comunque diciamo questo vi fa capire cosa vuol dire autorizzazione no a seconda di diciamo nel contesto in cui siete diciamo autorizzazione che non è autenticazione quindi autorizzazione cosa posso fare può assumere tanti tanti significati diversi quindi siete nel db siete nelle ruzze serve nel browser eccetera eccetera però diciamo non non starei a dettagliare troppo riprendiamo nel seguito delle slide solo ciò che ci serve ok per fare funzionare un meccanismo come quello della autenticazione abbiamo bisogno di ricordarci che l'autenticazione avvenuta quindi abbiamo bisogno di far funzionare il protocollo http in una maniera in cui si ricordi ciò che è avvenuto in precedenza quindi come scrivono qua dargli memoria non possiamo modificare direttamente il protocollo http perché è standardizzato così funziona ma possiamo far viaggiare dell'informazione addizionale all'interno del protocollo e lo faremo con i cookie ok che dovreste già conosce dovreste averne già sentito parlare dei corsi di rete dove vi hanno accennato da http comunque noi li riprendiamo per di nuovo per quanto abbiamo necessità funziona tutto ok allora prima di tutto http protocollo protocollo cosiddetto stateless non ricorda ciò che è avvenuto in precedenza cioè ogni interazione con il server è basato su una richiesta a cui corrisponde una risposta ok noi riusciamo in qualche maniera a collegare le varie richieste insieme se facciamo viaggiare dell'informazione aggiuntiva che ci mette insieme le varie richieste e quindi anche le varie risposte quindi per esempio un identificativo che rimane uguale diciamo nel nel tempo tra le varie richieste che poi l'identificativo che noi chiameremo identificativo di sessione perché ci serve perché abbiamo detto prima l'applicazione web abbia bisogno di mantenere alcune informazioni tra diverse interazioni successive ok per esempio siamo pieni di questi esempi usate tutte applicazioni web andate su amazon su questi siti di commercio elettronico mettete una cosa nel carrello quando ricaricate ritornate sul sito oppure diciamo interagite ulteriormente col sito volete che questa informazione cioè l'oggetto che avete messo nel carrello resti e così via quindi ci sono tutta una serie di esempi che possiamo fare di questo tipo e quindi abbiamo bisogno in qualche maniera di ricordarci dell'informazione tra una richiesta http e l'altra la sessione è un diciamo meccanismo che ci consente di fare questa operazione cioè ci consente di mantenere questa informazione di stato dell'applicazione quindi un'altra informazione di stato che non manipoleremo direttamente da react adesso vedremo come fare però fondamentalmente di nuovo uno stato dell'applicazione applicazione per acquistare qualcosa su internet avete uno stato che corrisponde al fatto che nel carrello c'è che ne so il vostro nuovo computer il vostro nuovo cappellino e così via ad un certo punto questa informazione di stato comincia a esistere quindi questa che noi chiamiamo chiameremo sessione viene creata comincia ad esistere tipicamente comincia ad esistere nel caso dell'autenticazione quando inseriamo user nel password premiamo il bottone quindi diciamo ok siamo noi riconoscici verifichiamo la password che sia corretta che corrisponda a quell'utente ma non è detto perché abbiamo dato anche dei temi d'esame in cui diciamo la sessione magari veniva semplicemente creata l'avvio dell'applicazione perché non era per forza collegata ad un certo utente era collegata a chi si collegava in quel momento indipendentemente dal fatto che si chiamasse tizio caio quindi non c'era bisogno di andare a inviare dell'informazione di autenticazione verso il server ok per sé la sessione la possiamo creare quando desideriamo noi e analogamente la possiamo far terminare quando desideriamo noi perché quando il classico caso è premete il bottone log out esci eccetera dalla vostra applicazione termina la sessione quindi da quel momento in poi l'applicazione non sa più che voi siete voi e quindi non vi fa più vedere ciò che poteva farvi vedere prima e così via oppure per qualche motivo termina scade perché dopo un po di tempo scade perché nessuno ha più interagito e così via e collegata alla vostra banca con un sistema online dopo non so cinque minuti se non fate niente la sessione scade così via ok come facciamo a mantenere la sessione abbiamo bisogno un identificativo questo id di sessione che viene ricevuto nel caso semplice dicevamo con l'autenticazione dal server al client viene passato un identificativo e se il client ha l'accortezza di mandare questo identificativo al server tutte le volte che fa delle richieste che necessitano della sessione il server sarà in grado di associare le richieste alla sessione corretta ok e quindi di fare anche tutte le operazioni per i quali l'utente che sia autenticato era stato autorizzato ok questo perché la logica del server sarà scritta in questa maniera questa informazione che viene quindi creata dal server non la possiamo creare sul client deve essere per forza creata dal server perché il server che deve ricordarsi chi siamo e cosa possiamo fare questa informazione però deve essere in qualche maniera immagazzinata sul client perché come dicevo prima bisogna mandarla insieme a tutte le altre a tutte le richieste che fanno parte della sessione e non deve contenere informazioni diciamo particolarmente preziose ok cioè non deve avere informazioni facilmente come dire comprensibili a chi eventualmente vedesse il valore di questo identificativo di sessione perché altrimenti succede che chiunque potrebbe inventarsi un identificativo di sessione agire come se fosse un utente autorizzato a fare certe cose che magari non vogliamo c'è una domanda laggiù grazie non si sente il microfono ha ragione se è spento sarà scarico mi sa che anche questi aggeggi soffrono la fine dell'anno accademia diciamo del semestre ok proviamo a tenerlo in carica adesso si sente no ok va bene quindi abbiamo bisogno di questo identificativo non dobbiamo scriverci dentro utente uguale enrico punto masala pulito.it perché sennò voi fate la stessa cosa vi create l'identificativo e poi accedete come me fate qualche pasticcio a nome mio ok quindi di solito questo identificativo non contiene informazioni sensibili cioè è un valore casuale o pseudo casuale generato dal server in cui l'associazione tra questo valore e chi si è autenticato rimane sul server ok quindi non si può prendere indovinare ok ok come lo facciamo girare tra il client e il server ci sarebbero diversi modi noi nel nostro corso qui per semplicità usiamo la maniera più semplice che quella del cookie il cookie è uno speciale header utilizzabile negli scambi richieste risposta http previsto dallo standard che ci consente di far viaggiare questo identificativo in maniera molto semplice sia di impostarlo quando viene creato e memorizzarlo sul client nel browser sia di farlo viaggiare automaticamente nelle richieste verso il server stesso ok quindi è del protocollo http ed è gestito automaticamente dal browser quindi questa è una cosa in meno che dobbiamo fare questo anche il motivo per cui vogliamo usare il cookie perché perché molto nella gestione del cookie è già pronta e solo da essere utilizzata quindi un cookie è un pezzettino di informazione immagazzinata nel browser il browser ha un'area speciale una memoria in cui poi immagazzinare questi piccoli pezzetti di informazione ricordarsi da quale sito quindi da quale dominio più porta è arrivato è arrivato e quindi associarlo ad un certo dominio anche anzi un certo percorso anche una certa porta potremmo aggiungerci e il browser il comportamento di default del browser inviare questa informazione al al sito quindi al dominio se accediamo al percorso al quale è stato impostato il cookie sulla stessa porta automaticamente tutte le volte che facciamo una richiesta ok quindi questo è il comportamento di default del browser quindi è esattamente quello che vogliamo cioè noi abbiamo un cookie relativo a un certo sito diciamo così ogni volta che facciamo una richiesta http verso quel sito questo cookie verrà inviato automaticamente dal browser senza che dobbiamo fare assolutamente niente ok e tra l'altro non possiamo farci assolutamente niente anche al contrario cioè non possiamo impedire che venga inviato a meno che traffichiamo non poco con javascript ma insomma non diciamo di default così il browser lo invia con tutte le richieste ripeto di nuovo non immagazzinare informazioni critiche nel cookie cioè ci saranno informazioni critiche nel senso l'identificativo della sessione ma è un qualche cosa che non può essere facilmente creato diciamo dall'utente che non ha interagito correttamente con il server quindi una sequenza di dati casuali ok come è fatto un cookie un cookie è fatto da un nome e un valore poi ci sono una serie di opzioni diciamo che che descriviamo adesso ma fondamentalmente una coppia nome valore quindi vuol dire che possiamo avere più cookie per lo stesso sito percorso porta quindi ci sarà un certo nome che la chiave è un certo valore che quello che vogliamo venga memorizzate mantenuto sul sul browser ci sono poi vabbè a una scadenza quindi dopo un po il browser lo butta via se noi impostiamo una data di scadenza date ora di scadenza in più ci sono due attributi interessanti uno l'attributo sicuro binario quindi o vero o falso se impostato verrà spedito solamente su connessione http s noi non useremo connessione https nel corso nei vostri progetti eccetera per comodità è perché così abbiamo la possibilità di come dire vedere bene quello che sta avvenendo vabbè che sul browser potremmo farlo anche con https però diciamo impostare https richiede di avere il certificato lato server eccetera insomma è tutta una macchinosità che alla fine non cambia assolutamente niente nella comunicazione http per cui evitiamo e facciamo prima il secondo attributo di cui voglio parlarvi invece è l'http only questo è importante se impostato il cookie sarà inaccessibile al codice javascript che gira nel browser questo è importante ma non è un problema per noi noi imposteremo o meglio diremo al middleware del server che lo crea di impostarlo ma noi non abbiamo un problema da questo punto di vista perché come detto prima il cookie è gestito dal browser nel momento in cui il browser accede a un certo dominio certo percorso porta e abbiamo il browser che automaticamente invia il cookie che esattamente quello che vogliamo e quindi questo va bene perché si vuol rendere inaccessibile il cookie dagli script perché perché c'è il rischio che script che noi avessimo magari caricato inavvertitamente nella pagina che arrivano da terze parti e così via potrebbero prenderlo manipolarlo usarlo per fare richieste che noi non desideriamo ok quindi una misura fondamentalmente di sicurezza però di nuovo questo andiamo verso una questione le questioni di sicurezza per cui diciamo abbiamo avremmo bisogno di molto più tempo tra l'altro non siamo neanche gli esperti nel nell'ambito e quindi rischieremo anche di dire cose non dico imprecise ma magari incomplete che andrebbero approfondite meglio allora come funziona il meccanismo una volta che abbiamo stabilito che abbiamo le sessioni abbiamo bisogno di un identificativo di sessione e questo identificativo di sessione sarà il cookie bene all'inizio il browser accederà al nostro server che ci fornisce l'api quindi ci risponde alle richieste di come dire di scambio dei dati dell'applicazione facendo l'operazione di autenticazione quindi inviando banalmente username password ok il server su quelle ipi che riceve la richiesta in cui voglio creare una sessione dicendo username password quindi una sessione per un certo utente ci risponderà creando una sessione sul suo lato e includendo un cookie che verrà inserito negli header http e che verrà memorizzato dal browser a ricevere della alla ricezione della risposta ok tutte le richieste successive che vanno lo stesso host porta percorso percorso di base quindi la parte iniziale che può anche essere solo lo slash avranno il cookie negli della richiedere della richiesta perché il browser funziona così ok se è necessario verificare che l'utente in precedenza abbia creato una sessione e l'utente diciamo che è collegata alla sessione abbia le autorizzazioni per fare le operazioni che deve il server quando riceve le successive richieste farà questa verifica quindi andrà a prendere il cookie andrà a vedere che cosa c'è scritto andrà a ricaricare la sessione associata con tutte le sue informazioni capisce che utente sta facendo la richiesta e decide se consentirla o no e poi se la consente darà la solita risposta se no darà un codice di errore sapete che in http ci sono questi codici di errore ad esempio mi sembra adesso non vorrei dire un cavolato ma mi sembra che il 401 sia non autorizzato ok non non ti sei autenticato quindi non ti risposta se c'è scritto si è giusto il 301 un autorize e magari ti metto un messaggio di errore anche se qui non è che c'è tanto era un messaggio di errore la via cioè non c'è stata autenticazione ok doveva finire il cookie va a finire in questo storage del browser che nel nostro caso per semplicità per comodità sarà semplicemente la memoria del browser quindi nel momento in cui chiudiamo il browser il cookie sparisce l'identificativo di sessione sparisce quindi se riapriamo il browser dovremo riautenticarci stessa cosa succede anche per il server perché anche nel server lo terremo nella memoria del server quindi se il server viene fermato e fatto ripartire anche in quel caso il cookie sparirà perché il server non si ricorda più l'identificativo precedente anche se il browser glielo manda quindi questa è una scelta nostra per comodità in generale si può anche rendere questi cookie più permanenti come fanno la maggior parte dei siti entrate su un sito ricordami quel ricorda mi vuol dire rendi quel cookie permanente per un po di tempo in maniera che non devo rifare l'autenticazione anche se ho chiuso e riaperto il browser poi ogni sito deciderà per quanto tempo e così via ok ok piccole note riguarda la sicurezza ecco questo in generale e non per il nostro progetto ma sempre usare connessione HTTPS se non usiamo connessione HTTPS per far girare questo cookie siamo esposti al fatto che chiunque in rete può intercettarlo nel momento in cui ha questo identificativo può mandare richieste al nostro posto come se fosse stato autenticato come noi ok quindi questo è il motivo per cui ogni volta che accedete a un sito che crea una sessione oramai praticamente tutti per darvi un'esperienza diciamo personalizzata per esempio il sito gira su HTTPS per lo stesso motivo di sicurezza ma lato browser il cookie è bene che sia HTTP only così qualunque script caricato da qualsiasi sorgente non può accedervi non mettere informazioni critiche va bene questo l'abbiamo detto usate tutte le best practice noi cerchiamo di dare il minimo che ci serve a realizzare la funzionalità nella nostra applicazione ma nel momento in cui doveste andare a creare qualcosa di più complesso mi raccomando non inventatevi nulla perché si sbaglia il 99 per cento usate delle best practice dei meccanismi ben testati ben collaudati perché perché c'è una marea di problemi di attacchi eccetera che possono succedere nelle applicazioni web non abbiamo il tempo di approfondirli però sono cose reali quindi in cui chiunque rischia di cascarci tipo un link mandato per email e così via voi avete il link alla banca ma voi dite vabbè pazienza ho cliccato non fa niente no non è che non fa niente perché il browser se ha un cookie impostato valido per un certo sito certo percorso porta invia quel cookie e se quel cookie era di voi che eravate autenticati va a fare potenzialmente delle operazioni che possono cambiare lo stato del server se vi cambiano il colore di sfondo del sito non vi cambia niente se vi cambiano il conto in banca ovviamente è un altro discorso ed è anche il motivo per cui adesso tutti vogliono l'SMS il secondo fattore c'è quando fate queste operazioni critiche perché così state tranquille che qualsiasi cosa si sognino lato diciamo comunicazione http non si può fare nulla se senza un secondo come dire meccanismo di autorizzazione che viaggia però su un canale separato e che quindi non è soggetto a questo problema in pratica come realizziamo la cosa quindi adesso noi abbiamo visto react abbiamo bisogno diciamo di fare un pezzettino sul server un pezzettino sul client per far funzionare il meccanismo di autorizzazione autenticazione autorizzazione e e qualcuno che ci supporti le sessioni perché sicuramente non ci mettiamo a scrivere codice per gestire gli header http e così via questo è il flusso di base quindi un utente riempie un form in cui si identifica quindi c'è un identificativo dell'utente e poi un qualche cosa conosciuto solo dall'utente c'è il classico username password username identificativo unico dell'utente la cosa tipica che vi chiedono l'email perché si aspettano che sia unica a livello mondiale no nella rete internet e e poi la password che è qualcosa di segreto che conoscete solo voi che avete impostato ad un certo punto ok l'identificativo non deve essere per forza un email però deve essere garantito essere unico no se entrate nel conto in banca tipicamente un numero qualcosa che avete scelto voi che però verificato essere unico e solo vostro questi dati sono validati diciamo prima di tutto sul client inutile che mando una richiesta per un qualcosa che su già che non è valido no quindi se mi aspetto un email se non c'è la chiocciolina banalmente non è che questa operazione avrà mai successo quindi posso anche fare o meno di inviarlo ma diciamo se formalmente se è corretto invio la richiesta al server con un api mi raccomando che non è una get ma è una post perché la logica è creare qualcosa in questo caso stiamo creando una sessione ok e tra l'altro inviare con la post ha anche un'altra serie di vantaggi nel senso che il browser eventualmente se noi inviassimo una seconda volta la stessa cosa eccetera ci ferma ci chiede sei sicuro di farlo eccetera perché la post come logica è sto modificando qualcosa sul server non è una normale get che il browser vi fa rifare senza problemi ok diciamo che è andato tutto bene il server riceve la richiesta e controlla che vada tutto bene cioè controlla che l'utente esista se non esiste abbiamo già finito se esiste che la password sia corretta ok adesso diciamo due parole su come fa la seconda operazione riguarda la password e se c'è qualcosa che non va ovviamente non crea la sessione e manderà indietro un codice di errore a livello http che la cosa più semplice da gestire e più un eventuale messaggio se si vuole scrivere qualcosa anche se in generale si tende a non dare particolari informazioni in fase di autenticazione perché per la questione del fatto che diciamo non si vuole che un potenziale attaccante abbia informazioni a riguardo degli utenti delle post che sono state diciamo create nel sistema cioè di solito non rispondo l'utente non esiste sono fatti miei se l'utente esiste non esiste ok perché se no basta provare un po di mail anche con le passo sbagliate comincio a capire con l'utente esiste quale no questo è un piccolo esempio del motivo per cui di solito avete semplicemente va o non va ok per le password di nuovo per questi motivi diciamo di sicurezza poi andiamo a vedere però vi anticipo che in generale non si memorizza la password in chiaro cioè ben visibile nel database ma si memorizza una sua versione derivata con una funzione di hash quindi un qualche cosa che la trasforma in un qualcosa che non è reversibile ma che può essere verificato se si conosce la password originale ok quindi io metto la password che so enrico non memorizza nel db enrico ma gli applico sopra una funzione e mi tirano fuori una serie di caratteri che a me appaiono casuali ma che in realtà in quella funzione se rimetto enrico riottengo ok però se leggo solo quei caratteri non sono in grado di sapere cosa c'era in ingresso a questa funzione di esce quindi diciamo leggere quei caratteri non mi dà alcuna informazione dovrei provare tutte le possibili password per diciamo scoprire qual è quella che effettivamente mi dà quel valore mi raccomando questa cosa è nel nostro esempio e vogliamo che sia utilizzata nei nei vostri progetti sia nel laboratorio sia nel nell'esame ok non è particolarmente difficile sono due righe di codice useremo una libreria che lo fa per noi e basta però però come dire sono quelle best practice che assolutamente vogliamo che siano implementate ok allora diciamo che è andato tutto bene il server genera l'id di sessione il server si memorizza questo id di sessione nel suo cosiddetto session storage che ho detto prima è la sua memoria in un server diciamo in produzione eccetera sarà sarà messo in maniera più permanente da qualche parte nel db non so dove non mi interessa per i nostri esempi per ora ci accontentiamo il server risponde via http con un cookie che avrà una certa chiave uguale il valore dell'id di sessione che appena creato ok noi diremo che vorremmo che http only sia true come flag del cookie e secure true se lavoriamo su https ma nel nostro corso non non lo facciamo per comodità solo per comodità però in real in uno scenario reale dovremmo fare il browser riceve il cookie lo interpreta è tutto già scritto nel funzionamento del browser non dobbiamo scrivere una singola riga tutti questi flag eccetera se l'interpreta da solo e se lì si salva l'informazione del cookie ok e poi il body della risposta verrà passata all'applicazione come succede normalmente per una qualsiasi post come la vostra post di creazione del film in laboratorio la nostra di creazione dell'esame un body viene dato come come risposta ok se json lo parsifichiamo col json eccetera facciamo tutto quello che vogliamo ok in realtà appunto nell'api di autenticazione se tutto è andato bene di per sé non è che c'è molto da dire se volendo possiamo dare informazioni diciamo relative all'utente no utente si chiama enrico masala questa email se confermo che questa email è l'ultima volta che è entrato è se vogliamo possiamo dare queste informazioni ma non è obbligatorio assolutamente darle in quella fase potremmo darle successivamente su altre ipi apposta che sono autenticate però che quindi richiedono di ricevere l'identificativo di sessione ok come facciamo a realizzare quello che abbiamo appena descritto uno ci serve un componente che sia un form quindi abbiamo imparato a fare i form e questo è un form che ha due campi e un bottone per due bottoni ma così possiamo anche tornare indietro quindi use name password e bottone submit quindi di invio dell'informazione del server e poi vabbè tutto il resto che eventualmente ci può servire cancel se per qualche motivo posso fare del resto anziché autenticarmi ok quindi normalissimo form stiamo capace usare i form form di tipo controlled quindi ci sono due campi due stati in react che sono poi due stringhe use name password state all'inizio vuote o all'inizio se volete pre riempite con l'utente la password ma più che altro per nostra comodità così come farò nell'esempio così non devo riscrivere tutto ogni volta che provo però sovrascrivibili quindi come in qualsiasi forma in cui c'è già scritto qualcosa se cambio sulla on change adesso qui non c'è ma tanto siete esperti sull'on change di ogni campo ci sarà event set use name set password event target value che riscrive il valore dello stato e poi sulla handle submit ci sarà l'operazione di invio dei dati al server quindi prevent default come sempre non vogliamo ricaricare l'applicazione mi raccomando ma questo vale in generale per qualsiasi forma se va tutto bene come dicevamo prima ci aspettiamo un email c'è la chiocciolina almeno non lo so c'è una qualche validazione dell'email ok vado a chiamare l'api dato client che mi va a fare la fetch sul server all'url della autenticazione ok quindi tipo boh adesso lo vediamo ai piai sessions e piai sessions ok per esempio con il metodo post ok quindi opzione metto due punti post e poi gestirò la risposta è il response ok allora tutto bene altrimenti scriverò attenzione login non ha avuto successo e mi comporto di conseguenza nella mia applicazione ok quindi niente di particolare normalissimo forma come tanti lato server andiamo a vedere lato server che è un po più macchinoso perché c'è da creare la sessione e così via allora come abbiamo fatto per altri casi ci avvaliamo di un middleware come per il logging come per il course come per se che abbiamo usato ancora è usato qualcos'altro no forse no e vabbè comunque viene in mente abbiamo un middleware apposta per gestire l'autenticazione si chiama passport il modulo base passport e poi dovremmo installare magari uno specifico modo di autenticazione che il local e quindi quello con user mpassword è uno strumento estremamente flessibile modulare supporta più di 500 sistemi di autenticazione nel senso che il giorno che uscite da questo corso volete andare a fare il vostro login con google facebook via email quello che vi pare probabilmente c'è il modulo che lo fa già quindi impariamo qualcosa anche di utile diciamo al per il futuro essendo già fatto e ci pare fatto bene adotta delle buone pratiche e quindi tendenzialmente non andiamo a toccare delle impostazioni se non c'è bisogno di farlo quindi usa già i cookie http only eccetera allora cosa dobbiamo fare sul server prima di tutto decidere qual è la strategia di autenticazione vogliamo farci autenticare tramite google o abbiamo noi lo username e password in questo corso la risposta è semplice la teniamo noi username e password nel nostro db e quindi useremo uno dei meccanismi più semplici a disposizione dobbiamo caricare il middleware all'interno del server quindi come abbiamo fatto cos'era use course use morgan faremo use passport con la sua configurazione e decidere c'è ancora un pezzo come gestire la sessione la sessione ci farà lavorare un po di più perché nella sessione dobbiamo fornire delle funzioni apposta per passare dall'identificativo di sessione a tutte le informazioni relative all'utente e viceversa ok perché passport ha bisogno ma che un qualsiasi sistema ha bisogno di fare questa mappatura perché nel cookie di sessione abbiamo detto fondamentalmente non teniamo informazione una stringa casuale che non dà alcuna particolare informazione a chi lo vede quindi non c'è scritto direttamente dentro qual è il nome dell'utente eccetera ok quindi il meccanismo che noi andiamo a usare in passport si chiama local strategy che banalmente è quello che supporta username e password gestiti da noi che metteremo nel db quindi oltre a installare password dovete installare password trattino local ma diciamo l'abbiamo già messo nel package json quindi niente di così complicato come in tutti i sistemi javascript questi middleware questi sistemi richiedono che noi scriviamo delle call back per svolgere delle operazioni ok quindi dobbiamo fornire una call back che faccia la verifica dato un username un appasso deve rispondermi vero o falso e anzi in realtà deve deve fare poi un'altra cosa cioè deve chiamarla funzione done perché sarà in catena con tante altre funzioni nel momento in cui arriva una richiesta dal client comunque diciamo noi vi forniamo già degli esempi pronti da utilizzare e dopo li utilizziamo quindi nel momento in cui abbiamo capito che effettivamente l'utente c'è e la passo corrisponde a quell'utente fondamentalmente andiamo a chiamare la call back sì in maniera differente è che questa da nel terzo parametro la chiameremo ecco con l'utente come secondo parametro se tutto è andato bene con false come secondo parametro se qualcosa è andato storto eventualmente fornendo un messaggio di errore ma insomma diciamo che questo ve la mettiamo a posto già noi noi dobbiamo solo diciamo capire cosa tenere nel oggetto user che sarà a disposizione nel server ok nel momento in cui avremmo fatto l'operazione di autenticazione ok quindi diciamo sì questo è questo è lo stesso codice di prima qualcuno deve fornirci il username e password dove li andiamo a recuperare dalla richiesta che ttp quindi li mandiamo in json non c'è niente di male così parliamo json abbiamo tutto predisposto per il json facciamo un oggetto user nei due punti passo due punti e ci ritroveremo come in tutte le altre richieste che avete visto finora in rec.buddy i due campi dell'oggetto json che arriva user nei passi e quindi ce li abbiamo come variabili javascript e li passiamo semplicemente ok quindi qui trovate tutti i dettagli però più che altro proviamo poi nel codice a far funzionare tutto come immagazzinare le password nel server tutto bene qui sì mai 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 immagazzinare le password in chiaro nel db o da altre parti su file eccetera eccetera ok mai perché 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 chiunque abbia accesso al db può leggere le password quindi può entrare come se foste voi perché lo vedrà anche l'utente no e quindi che so l'amministratore del server che ha accesso al database amministratore del database piuttosto che gli eventuali malintenzionati che abbiano fatto un accesso abusivo ai file sul server e si siano scaricati una copia del database insomma delle righe che contengono il username a passo del db non è che non metta la password in chiaro cd a chissà quale garanzia perché se avete usato una passo particolarmente come dire facile da indovinare come ho fatto io questa mattina ho messo password tanto perché siamo qui facciamo una prova così però diciamo quindi se la passo si indovina non c'è niente che ci salvi no per questo che si dice che bisogna usare password diciamo difficili da indovinare però che almeno non sia lì in bella vista per chiunque eventualmente possa accedere al db o abbia avuto accesso al db con qualche hack con qualche meccanismo ok quindi come evitare questo problema sempre fare l'hash della password hash come vi dicevo prima una funzione che dato una stringa o una serie di byte vi dà una serie di altri byte in maniera deterministica ma non invertibile cioè data la risposta quindi il risultato della funzione non riesco facilmente indovinare cosa è stato messo in ingresso se non provo a farlo per azione quindi se la password è indovinabile e vuol dire che io sarà 1 2 3 4 5 6 provo a fare l'hash mi viene fuori lo stesso hash ok allora sarà quello però se io non so cosa è stato messo dentro finché non non ho la fortuna di indovinare cosa è stato messo dentro non me ne faccio niente dell'hash ok ok noi useremo questo script che interno nod quindi non dobbiamo importare nessun modulo ci viene comodo come funzione di hash della password non abbiamo la pretesa di dire che sia il migliore che sia perfetto eccetera di nuovo se dovreste mai mettere un'applicazione in produzione prima consultate qualcuno che sia un po' esperto di queste cose però diciamo che è un buon compromesso di facilità d'uso per i nostri scopi per lo meno non ci lascia la password in chiaro che proprio una delle cose peggiori che che può che uno può fare e che quindi sarà penalizzata l'esame se per caso la fate ma spero di no perché tanto noi tutti gli esempi li facciamo in questa maniera se prendete dagli esempi insomma non non dovrebbe esserci problema ok è successo è in passato ci sono delle aziende che lo fanno e di fatto poi come dire si capisce il valore dell'azienda quando vanno a rubare il database e si scopre che il database non aveva manco l'esce sulle password no perché sono tutte lì pronte e a disposizione per essere utilizzate e poi magari avete riutilizzato la passo da un'altra parte così non vi hanno rubato solo quella ma vanno subito a provare la sua né altri siti vabbè però questo è un altro discorso quindi mai fare questa operazione abbiamo bisogno di due funzioni per diciamo fare questa operazione di hash una che ci faccia l'hash si chiama crypt.scrypt e adesso arriviamo al sale e l'altra fa il confronto cioè dati due hash perché lo fa in formato binario c'è un'apposita funzione ci verifica se sono uguali ok non possiamo semplicemente usare triplo uguale ecco diciamola così c'è ancora una piccola cosa da sapere nel senso che c'è questa questione dell'ash del sale anzi scusate ossia che in generale non si fa l'ash della password e basta ma si fa l'ash della password più un pezzettino di come dire di una stringa generata in maniera casuale che viene memorizzata questa si in chiaro nel database ok certe funzioni ci fanno tutto da sole l'hash script invece richiede a noi di farlo e quindi lo faremo perché si fa questa operazione perché l'ash è una funzione deterministica se io ho scritto 1 2 3 4 5 6 e come password e diciamo ho fatto fare l'ash nel db comparirà un certo hash poi c'è un altro utente che ha avuto la mia stessa brillante idea di mettere 1 2 3 4 5 6 se non ho niente altro la stessa identico hash quindi se andate a vedere nella lista degli hash sul db vedete due hash uguali se non c'è sale vuol dire che hanno la stessa password se ne vedete 5 6 10 cominciate da quelli lì perché saranno quelli che hanno messo password 1 2 3 4 5 6 q qwerty e tutte queste password non molto furbe e così cominciate ad avere la possibilità di attaccare il sistema se invece c'è il sale se anche io ho avuto l'idea di mettere la stessa passo di un altro se ho una parte casuale che in chiaro ma non fa niente da aggiungere prima di fare l'ash il risultato è un hash diverso per tutti quanti anche se hanno lo stessa password ok e quindi non ho più questa informazione aggiuntiva come vedete è una cosa a cui bisogna pensarci non è immediata ed è per questo che diciamo le questioni della sicurezza non sono così banali noi potremmo dire con la hash abbiamo risolto il problema in teoria sì in pratica no perché poi ci sono gli utenti che hanno la stessa password e così via che danno informazioni aggiuntive eccetera a noi interessa solamente sapere che abbiamo bisogno di questo pezzettino aggiuntivo perché alla fine è una colonna in più nel nostro dibide di utenti perché questa informazione dobbiamo tenerla non è che possiamo usare un pezzo di sale casuale in generazione uno diverso in testa perché deve essere lo stesso ok esattamente come la password ok comunque anche qui vi forniamo il codice per cui non è che c'è tanto da ragionare e c'è solo da capirlo una volta come funziona dato un username passo diciamo qui abbiamo messo un email perché poi l'email è una cosa che viene più comoda però insomma uno username andiamo nel db tabella utenti user utente andiamo prima di tutto a cercare che esista quindi guerra email uguale l'email che ci viene fornita se ci sono zero riga abbiamo già finito perché non c'è l'utente se invece c'è una riga allora andiamo a estrarre informazioni raw email va bene ok raw id perché magari ci serve raw salt quindi il sale lo estraiamo e lo prendiamo lo utilizziamo per fare la cifratura con la funzione che abbiamo visto prima con la password che arriva dal client quindi che c'è stato fornito da chi vuole autenticarsi e tiriamo fuori una hashed password che ci viene restituita in una callback siamo in java scritto e tutto callback e andiamo a verificare se questo è lo stesso di quello che abbiamo scritto nel db chi l'ha scritto nel db l'ha scritto chi ha creato l'utente ok quindi o abbiamo un meccanismo di nuovo lato serve per creare gli utenti oppure no dov'è che l'abbiamo messo non c'è più il link mi hanno perso il link vai a questo problema cercheremo poi script su internet in fase di creazione dell'utente qualcuno ci deve fare l'hash quindi non lo facciamo con le funzioni javascript però dobbiamo avere un ap a qualcosa che ci crea l'utente oppure possiamo tranquillamente farlo anche noi a mano perché perché noi abbiamo accesso al db apriamo il db browser insomma quel sistema che serve a editare il db aggiungiamo una nuova riga nuovo utente enrico masero email eccetera sale ce lo sogniamo qualcosa di casuale non so adesso qui cos'era 16 by 32 non lo so cosa fosse e poi e poi però dobbiamo calcolare l'hash perché nel db dobbiamo mettere l'hash allora come facciamo andiamo semplicemente su un sito che adesso mi sa che ci siamo scordati nelle slide farò presente al ai colleghi ma credo speriamo che lo ritroviamo facili su internet che ci fa questo calcolo perché l'alternativa è farlo fare con le funzioni javascript eccetera ma dobbiamo scriverci del codice noi ovviamente noi siamo pigrissimi soprattutto io e quindi vogliamo che qualcuno lo faccia per noi che sia già tutto pronto e dobbiamo solo fare copy in colla del risultato nel db sì c'è una domanda sì sì lo salviamo il database lo creiamo noi come stavo dicendo proprio in fase di creazione dell'utente ok se lo fa da codice farà una random come come c'è scritto qui ma se lo facciamo noi a mano perché inseriamo noi da la riga nel db dobbiamo sognarcelo noi tirare fuori un po di caratteri a caso ok di solito mettiamo in formato esadecimale quindi sarà da 09 da ai quindi quello che possiamo mettere nel db però sia un valore a caso non fa niente quale sia lo creiamo così quello che ci viene fuori lo mettiamo ok ok questo cioè perché lo vogliamo fare a mano è semplicemente per evitare di farci un api in più per creare l'utente ok se no abbiamo bisogno di crearci l'api per fare l'utente però tipo per esempio nei temi d'esame anche nel vostro laboratorio gli utenti si da per scontato che siano già stati creati da qualcuno quindi li dovete già mettere voi nel db perché così facciamo un pezzo in meno no se no avete bisogno di un altro form come ti chiami cognome nome email scegli una password e tutte queste cose se non è richiesto del tema d'esame evitate di farlo perché è tanto lavoro e alla fine non è richiesto noi quindi anche per l'esame tra l'altro non viene valutato no quindi anzi c'è il rischio di fare qualcosa che non funziona ok comunque ha fatto bene a chiedere chiedete se ci sono dei dubbi abbiamo il sistema per fare il test user name password adesso ci serve il meccanismo per la sessione ok altro modulo express session questo di express ok non è di passport perché perché in realtà la sessione riguarda il server http non riguarda il meccanismo di autenticazione noi dobbiamo poi solo farli parlare ok e quindi noi dobbiamo dare va bene in fase di use cioè attiva questo middleware una piccola configurazione ma diciamo per noi va bene qualsiasi cosa ci mettiate un segreto che mi raccomando segreti non vanno messi in generale sto parlando in generale per un'applicazione vera non vanno committati sul git eccetera per i nostri scopi va benissimo quindi mettetelo anzi se non lo mettete poi ci funziona l'app quindi mettetelo però ricordatevi che nel momento in cui andate poi implementare l'applicazione per davvero per qualcuno eccetera non mettetelo link chiaro nel db soprattutto se è accessibile a chiunque ok quindi qui niente di particolare c'è solo da dire app use session app use passport session cioè diciamo anche a passport di usare le sessioni ok è una funzione che ha già dentro perché perché poi con l'autenticazione abbiamo bisogno di una sessione no va bene questo diciamo non diciamo fate come nel nostro esempio abbiamo risolto il problema qui c'è tutta la spiegazione solo una cosa cos'è il segreto il segreto è diciamo un qualche cosa che serve a cifrare il cookie proprio perché dicevamo non vogliamo che chi legge il valore del cookie sia in grado di capire cosa c'è dentro ok chi legge il valore cookie l'utente normale che usa il sito al massimo può accedere al cookie come faremo anche noi diamo un'occhiata dal browser ma vogliamo che sia una stringa di caratteri casuali senza significato per chi legge senza ovviamente la chiave e quindi per questo che c'era questa frase segreta di la tua scelta se volete personalizzate sennò fa niente nel senso che noi diciamo per l'esame non è un problema importante che ci sia scritto qualcosa per diciamo per far funzionare tutto ok ultimo pezzo quasi perché c'è tre a tre b vabbè però dobbiamo decidere cosa tenere la sessione ok quindi cosa scrivere dentro il cookie in maniera invisibile perché cifrato come vi ho detto prima ma dobbiamo decidere noi cosa tenere perché perché è una scelta nostra le sessioni sono nostre dipendono dall'applicazione ok noi vi consigliamo di fare questa cosa ossia fondamentalmente di tenerci il minimo indispensabile ossia l'identificativo dell'utente ok se volete magari il nome però fondamentalmente l'identificativo dell'utente l'identificativo unico e poi l'id della riga del db del database ok dobbiamo fornire a a chi ha passport due funzioni serialize e deserialize in una diamo ciò da scrivere nel cookie e nell'altra andiamo a diciamo estrarre dal cookie ciò che c'è scritto dentro ok la codifica e decodifica la fa passport ma noi abbiamo bisogno di dargli le callback che passino o recuperino questa informazione ok e si fa diciamo come qui nell'esempio ok quindi fondamentalmente la deserialize ci chiamerà con il valore di user in cui ci troviamo dentro quello che noi abbiamo deciso di metterci in fase di serializzazione cioè questo oggetto che vi dicevo può essere tranquillamente anche solo l'id da noi basta l'id perché poi andremo come vediamo poi nell'esempio a recuperare dall'id tutto il resto che ci serve sul server ok quindi qui vi racconto vi racconta la questione vabbè se la memorizza da qualche parte ma in realtà poi questo non lo vediamo nel codice quindi diciamo questi sono diciamo questioni su internet di passport che non ci interessano più di tanto perché noi non andremo mai direttamente accedere a rec session perché perché noi vogliamo già il risultato noi abbiamo bisogno di un meccanismo che ci dica questa sessione corrisponde a un utente autenticato si no e poi se si a che utente corrisponde in maniera che poi possiamo usarlo per esempio per farle quire sul db e così via estraendo solo le informazioni di quell'utente ok quindi questo è ciò che dobbiamo fare ok siamo a buon punto quindi dopo tutto questo discorso come facciamo a rendere un api autenticata cioè a farla funzionare solamente nel momento in cui c'è una sessione valida in realtà questo è diciamo la cosa forse più semplice allora in fase di login chiamiamo passport vedete di creare la sessione ok con l'autenticazione tipo local che abbiamo detto è quella semplice username e password ok e cosa perché la chiamiamo qui perché le chiamate del server quindi di express prendono un numero variabile di parametri se noi passiamo ad un certo punto una funzione questa viene eseguita come un middleware se ci diciamo ci restituisce vero in questo caso mi sembra va avanti si va avanti con la funzione successiva e quindi ci viene chiamata la successiva callback rec res che fondamentalmente fa poi l'operazione che abbiamo richiesto ci dà poi la risposta e tutto quanto se invece lì ci blocchiamo sarà compito di quella funzione restituire qualcosa e dire che sono non autenticato e così via ok questa è la post quindi questa è quella che crea una sessione quindi deve diciamo chiamare passport dicendo di creare la sessione con l'autenticazione tipo local dove è andato a finire e poi ce ne sarà un'altra che mettiamo in tutte le ipi è l'ultima della serie che va a fare il test se c'è la sessione ok però alla fine ok quindi post è da trattare un po in maniera particolare perché quella riceve username e password deve farla verifica poi ci sono tutte le altre funzioni che corrispondono ai vari alle varie ipi che abbiamo messo a disposizione che dovranno andare a fare il test se c'è la sessione e che quindi vuol dire che c'è un utente autenticato ok dove mettere l'informazione di relativa all'utente nell'applicazione react quindi siamo tornati un attimo sul client diciamo che ha fatto la post dato tutto bene mi ha autenticato diciamo che la post mi restituisce l'informazione relativa all'utente per esempio mi dice utente nome due punti enrico nel json che mi manda indietro io faccio respost punto json al mio oggetto in javascript in react dove metto questa informazione come in tutte le ipi che abbiamo visto andrà a finire in uno stato perché se la voglio mantenere da qualche parte nell'applicazione react devo metterla in uno stato questo stato vedete voi come distribuire questa informazione di stato a arresto dei componenti dell'applicazione può essere tranquillamente uno stato che è passato ogni volta come profs a tutti quelli che ne hanno bisogno come abbiamo sempre fatto forse una cosa interessante che si può fare con questo stato perché uno stato che interessa tutta l'applicazione rendere un context non abbiamo visto esempi di context diciamo a livello pratico di codice in questo corso neanche oggi lo faremo perché abbiamo tanto altro da fare per far funzionare tutto però pensateci e se avete tanti componenti in giro e magari vi serve questa informazione perché volete scrivere ciao enrico nome dell'utente in tanti componenti in giro per l'applicazione e così via anziché mettervi lì a fare profs profs passare sempre l'oggetto di usere o quello che usate potete pensare di usare un context ok c'è questo link abbastanza interessante che usa proprio questo approccio per e tra l'altro vi spiega anche una serie di altre cose sulle route autenticate che che vi può dare dei suggerimenti in merito non c'è niente che non possiate fare senza andare a vedere questo link però ovviamente a vedere l'approccio di qualcuno che già ha implementato le cose può darci degli spunti interessanti ok dopo che ho fatto il login ci sono delle route che devono essere protette quindi che so il mio get exam no che mi dà la lista degli esami a questo punto non è più un url pubblico che chiunque può richiamare anche perché non ha più senso perché sono gli esami di chi perché nel momento in cui ho gli utenti devo dire gli esami di chi mi raccomando che a nessuno salta in mente come purtroppo succede all'esame ma lo dico lo ripeto lo ripeterò anche dopo di mettere l'utente come parametro dell'url ok perché l'utente è quello della sessione non ha senso mettere l'utente come parametro dell'url oltre che essere profondamente sbagliato perché chiunque può metterci su qualsiasi valore e se uso quel valore possa accedere ai dati di chiunque è profondamente sbagliato perché è il server che deve capire qual è l'utente che sta facendo accesso non può essere un'informazione che mi arriva dal client ok mi raccomando questo si vede già solo da come è stata fatta l'api se uno vede su un api che deve essere autenticato get qualcosa barra due punti user id ha già perso due punti ok ok no però insomma non è concettualmente sbagliato perché se uno fa così non ha capito che l'informazione non è una richiesta qualsiasi una come un'altra che deve arrivare dal client è l'informazione che deve stare nella sessione e se sta nella sessione tra l'altro sono sicuro che è esattamente quella che deve essere non è che un qualsiasi client può metterci qualsiasi valore perché ce l'ha messa il server c'è la cifrata dentro il server e quindi il server ha messo sicuramente l'informazione di chi si è autenticato e non è un id qualsiasi ok comunque lo vediamo poi nell'esempio cerco di ricordarmi di evidenziarlo per bene anche perché purtroppo è una cosa abbastanza comune uno dice vabbè ho risolto il problema perché ho fatto la ruta autenticata no non basta la ruta autenticata assicura solo che un qualsiasi utente autenticato possa accedere alla ruta sul server quindi all'url sul server il fatto che solo l'utente che ha il permesso di accedere ai suoi dati acceda ai suoi dati va controllato su e nel codice del dell'api del server quello che corrisponde a quel certo url ok ok comunque diciamo prima di tutto dobbiamo proteggere la ruta questo è passo numero uno perché se non è protetta diciamo esponiamo delle informazioni che a chiunque che non vorremmo esporre numero uno ok numero due dovremmo fare questo controllo sul sul server quindi quindi dobbiamo fare tutta quella procedura che si diceva prima non abbiamo fatto il deserialize user eccetera passport ci se facciamo come vediamo tra un istante ci decodifica tutto dal cookie ci estrae l'utente eccetera quindi ci già fa già tutto automaticamente e questo è un'ottima cosa ok il cookie come detto all'inizio arriva per forza perché il browser lo spedisce sempre nel momento in cui c'è non è scaduto lo spedisce sempre con ogni richiesta ok abbiamo solo un piccolo problemino sfortunato che ci capita quest'anno perché abbiamo usato course l'anno prossimo ci penseremo se è il caso per abbiamo usato perché c'era un problema col proxy di react speriamo anche l'anno prossimo sistemi no va bene comunque il cookie ci arriva l'unico problema che abbiamo è che il cookie ci arriva da un'applicazione caricata dallo stesso host ma una porta diversa sapete che abbiamo caricato l'applicazione sulla 3000 ma il server dell'API sta sulla 3001 quindi per far viaggiare il cookie cioè per autorizzare il cookie che è arrivato dalla 3001 a riandare alla 3001 da un'applicazione caricata da 3000 dobbiamo fare un paio di passi di configurazione ok che semplicemente vi segnate li usate uguali identici così come sono come metteremo a disposizione nell'esempio punto e basta ok purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire queste cose mi dispiace dobbiamo dobbiamo tagliare da qualche parte queste non sono particolarmente interessante è una questione di consentire la spedizione dei cookie che chiamano credentials nelle opzioni del course su un'altra porta anche dall'applicazione caricata appunto da una porta differente quindi noi dobbiamo solo fare due cose lato server mettere questa configurazione cioè non facciamo più app use course aperta e chiusa torna come avete fatto finora ma mettiamo le opzioni cioè diciamo che guarda l'origine htb localhost 3000 credenzial true ok occhio che nel momento in cui mettete questa cosa funziona solo più se realtà è partito sulla porta 3000 e quindi a qualcuno che in laboratorio fa partire l'applicazione si dimentica che c'è un altro in giro vuoi cambiare la porta di scrivere atto e fate sì occhio che poi questo non funziona più quindi non fate così chiudete l'altra e la fate partire sempre sulla 3000 così non avete problema seconda cosa da fare nelle richieste fetch dobbiamo aggiungere un'opzione che è credenzial include come prima no beh tu era scusa credenzial include che una stringa ok che dice alla fetch invia i cookie che di default non sono inviati ok quindi questo è lo stesso oggetto in cui ci mettete metto due punti post metto due punti put metto due punti delete ok metto get non ce lo mettiamo di solito perché è il default ma purtroppo dovremmo sempre mettere l'oggetto anche per le get perché dobbiamo metterci credenzial due punti virgolette include ok abbiate pazienza e lo fate su tutte le ipi che richiedono autenticazione fine ok bisogna farlo anche sulla su quella di login va bene ma insomma vi forniamo l'esempio fatto così ok ultima cosa vogliamo proteggere le route quindi non vogliamo che adesso chiunque ci chiami get exams e ritrovi la lista degli esami indipendentemente dal fatto che avrei già un problema no cioè non so di che utente perché non c'è l'id dell'utente questo è già un problema però che so anche altre informazioni che so get courses la lista dei corsi del politecnico ok qualcuno può dire vabbè non la proteggiamo e questo però è un discorso diverso se la vogliamo proteggere non abbiamo bisogno dell'identificativo dell'utente semplicemente una lista dei corsi disponibile solo a chi sia autenticato indipendentemente a chi sia autenticato come facciamo abbiamo un metodo rec punto is authenticated fornito da passport ok che possiamo chiamare per sapere se la richiesta effettivamente autenticato oppure no cioè è arrivato un cookie ed è un cookie valido ok poi se ci serve anche l'id vediamo come andare a recuperare i lid dell'utente però questo è il numero uno sapere se la richiesta è stata autenticata di solito non lo usiamo direttamente così perché perché vogliamo mettere un if e dire non autenticato quindi rispondere a chi ci fa la richiesta non autenticato nel caso in cui non sia autenticata quindi ci facciamo queste quattro righe in cui ci creiamo la nostra funzione is logged in che prende rec res next che è una callback per mandare avanti tutto il resto se non autenticato cioè scusa se autenticato chiamiamo next e tutto va avanti e quindi si andrà sul db a seconda di cosa fa l'api se non va bene faremo return status 400 beh forse 401 nota autenticato mettete quello che volete nel messaggio e il discorso finisce lì perché se non chiamate next non si procede a tutto il resto delle callback della vostro dell'url che state servendo quindi api exams con la get in questo caso ok quindi discorso finisce fondamentalmente con avere questa funzione implementata esattamente così come la vedete qui e mettere nella catena delle callback da chiamare quindi dei middleware da chiamare per ogni url che deve essere autenticato is logged in che ci sbutta fuori nel momento in cui non siamo logati fine ultimo logout siamo arrivati finalmente al logout siete nel sito fate bottone esci logout insomma quello che volete come facciamo a distruggere la sessione beh perlomeno questo è facile nel senso che avremo una richiesta da fare al server questo sicuro ok perché dobbiamo distruggere la sessione sul server e serve che la sessione sono un po neanche il server non c'è niente da distruggere possiamo cancellare il cookie localmente nel browser ma uno vi ho detto che il cookie non è accessibile da javascript quindi da javascript non si può fare lo può fare l'utente lo può chiudere e riaprire il browser se vuole però la sessione sul server continua a esistere se io recupero quel cookie fino a che non è scaduto lo posso usare allora per farlo scadere quindi dire non è più valido non è più valido scadere un'altra cosa è la data non è più valido devo semplicemente chiamare la funzione logout su che mi avrà messo a disposizione passport ok state solo all'occhio se avete seguito l'anno scorso lo dico per chi magari ci ascolta l'anno scorso pre poteva direttamente chiamare resend quest'anno vuole una call back cambia tutti gli anni cambiano qualcosa quindi però per voi è nuovo quindi passate una call back che fa semplicemente dice resend di default a 200 ok fine se volete res status 200 and fine tutto qui bene quindi direi che abbiamo concluso il discorso teorico siamo arrivati più o meno a metà della mattina nella seconda parte andiamo ad implementare tutto quanto nell'esempio che avete già a disposizione come sempre quindi se qualcuno vuole iniziare iniziare a vederselo c'è la week 13 av1 weeks week 13 in cui ieri ho fatto tutto quanto e poi ho smontato il tutto e avete l'esempio da cui partiamo dopo con già il tb pronto con gli utenti che due utenti con le password eccetera eccetera quindi tutto quello che sto facendo sale esce eccetera 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 poi ovviamente vi faccio il commit vi do l'esempio che possiate guardarvelo con calma ok se non ci sono dubbi o domande io farei pausa a questo punto ci sono facciamo dieci minuti di pausa senza eccedere se avete dei dubbi delle domande volentieri vi rispondo mi raccomando se potete compilato il cpd se non l'avete ancora fatto scusate lo stress ditelo ai vostri colleghi se li sentite se non l'hanno ancora fatto è da fare entro il 12 giugno cioè la data in cui finiscono le lezioni grazie